Amiche e amici di Trieste Caffè ed FWG Caffè, buongiorno. Oggi scopriremo se i triestini credono nell'oroscopo. No, per niente. Per quale motivo? Perché sono fantasie inutili, proprio non hanno nessuna rappresentanza scientifica e non hanno nessun valore, certamente. Secondo me no, perché penso che alcune cose siano vere in base alla legge dei grandi numeri. Un po' sì, un po' sì e perché un po' no. Perché a volte credo che qualche segno giornale effettivamente combaci un po' con la tipologia della persona. Poi l'oroscopo in sé invece mi prendo un po' azzardato. No, a questo momento no. Come mai? Ma io sono, a questo momento che non c'è stato più, sono nazionale, credo di esigenza. Non mi serve tanto. Mi affido più al mio intuito e non a quello che dice il vostro. Siamo proprio una cosa da altri tempi. Comunque si legge, comunque insomma. È sempre un po' sorprendente. Però insomma, no, direi di no. Non ci credo più. Non ci credo più.